E lo conosceva, Lucio Dalla? Beh, sono cresciuto a Bologna, quindi ho avuto occasione di incontrarlo tante volte, è una giornata tristissima evidentemente, anche perché il suo album Cambio, che è il suo capolavoro secondo me, mi ha accompagnato e mi accompagnerà per sempre. E a Bologna cosa mancherà di più di Lucio Dalla? Intanto la presenza, perché lui è stato sempre presente nella sua città, viene da pensare tutto quello che poteva fare e tutte le emozioni che non ci potrà più dare. La sua canzone più bella? Beh, Enna. Enna. Grazie.